L'era dei dati è il nostro presente e il nostro futuro. La chiave delle strategie di successo risiede nella loro corretta lettura ed interpretazione. Con la data visualization puoi rappresentarli al meglio dal punto di vista logico e grafico per ricavarne informazioni utili a figure centrali come manager e decision maker. Sarà possibile identificare più facilmente fenomeni e trend che risultano invisibili ad una prima analisi delle informazioni. Se sei un professionista della business intelligence o vuoi affacciarti a questo mondo, approfittane e iscriviti al corso. Impara ad usare la piattaforma Tableau per far emergere la conoscenza nascosta dei dati in modo facile e veloce. Leader nel settore, il software Tableau non avrà più segreti. Attraverso i tre corsi imparerai tutte le funzionalità di Tableau Desktop, lavorando con strumenti di interazione dati in locale e sul server. Potrai confrontarti con strategie di selezione e organizzazione dell'informazione, imparando a costruirne relazioni. Diventa manager del futuro. Partecipa al corso di Data Visualization e iscriviti su Federica.eu Grazie a tutti. Grazie a tutti.